Allontanarsi dalla linea gialla. 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 Grazie a tutti. Padova, Vicenza, Perona Porta Nuova, Peschiera del Garda, Brescia, Milano Centrale, Tallarate, Domodossola, Brigg, Sion, Montreux, Lausanne. La prima classe in coda al treno. Il treno regionale, proveniente da Porto Gruaro-Caorle, è diretto a Venezia-Santa Lucia, delle ore 16.40 e in arrivo al binario 1. Attenzione, allontanarsi dalla linea gianta. Allontanarsi dalla linea gianta. Attenzione, allontanarsi dalla linea gianta. Attenzione, allontanarsi dalla linea gianta. Allontanarsi dalla linea gianta. Il treno regionale, proveniente da Padova, è diretto a Venezia-Santa Lucia, delle ore 16.45 e in arrivo al binario 1. Invece al binario 9. Attenzione, allontanarsi dalla linea gianta. 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 proveniente da Venezia Santa Lucia, è diretto a Sacile, delle ore 12 e 44, è in arrivo al a casa, è in attivo al alla settimana, una zona, questa così, è in frittata, è in relazione, in avanti è da una zona di comanda, è iniziato nella zona della fede, molto, è iniziato a dire alle ore 12, è iniziato a quelle Grazie a tutti. Grazie a tutti.